Sono salpati dal porto su segnalazione di un apneista sabato mattina all'equipaggio di protezione civile composto da tre sommozzatori e tre operatori. Hanno approfittato delle buone condizioni meteo per fare un addestramento in mare recuperando una macchina del caffè, evidentemente gettata da qualche imbarcazione e andata a finire tra la Posidonia. Il punto nave era a circa 0,7 miglia dal porto di Agropoli e a 400 metri dalla Baia di San Francesco. Le operazioni di recupero svolte in totale sicurezza hanno visto l'impiego di tre sub, i quali hanno agganciato la macchina e poi i volontari in barca. L'hanno tirata a secco. Nel rientrare a fine esercitazione hanno recuperato anche un polistirolo, molto probabilmente volato da una delle flotte pescherecce. Salvaguardare il mare e tenerlo pulito è uno dei principali obiettivo dei volontari della protezione civile gruppo comunale di Agropoli, sezione sommozzatori.